Salve tifosi napoletani. Partenza inaspettata di un giocatore del Napoli. Ma prima dei dettagli iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per restare aggiornati su quello che succede al Napoli. Il Napoli ha deciso. Ndombele non verrà riscattato. Tornerà a Londra. Il giocatore francese non resterà al Napoli al termine dell'attuale stagione. Niente riscatto per lui. A tal proposito, secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe deciso di non riscattare Tanguindo Mbele, centrocampista in prestito dal Tottenham. Il Napoli ha già preso una decisione per il futuro del centrocampista francese che non verrà riscattato al termine della stagione e farà ritorno a Londra, riferisce il noto quotidiano sportivo. Il francese non ha pienamente convinto la dirigenza del club partenopeo. Il centrocampista del Napoli qualche giorno fa aveva parlato a Soffut in merito al suo futuro abbastanza incerto. Non so cosa accadrà. Tanti tifosi mi chiedono di tornare al Tottenham ma lo decideranno i club e il Napoli ha una opzione per l'acquisto. Non mi pesa essere in prestito anche se a volte vedo che i calciatori vengono trattati più come merce che come persone. La sua avventura in maglia azzurra si concluderà a giugno. Buon giocatore, ma non ha impressionato. Qual è la tua opinione da tifoso napoletano su un dombele? Lasciatelo nei commenti e iscrivetevi al canale perché presto vi aggiornerò con le novità del club più grande d'Italia. Forza Napoli sempre!